Chi l'ha decise? Questi decidono al posto nostro e ci commissariano. Ha ragione o ha torto Renzi? Tra l'altro c'è un passaggio del tuo pezzo che mi ha molto colpito quando scrivi così tra le righe, tra gli applausi del PD perché diciamo si capisca che non è che proprio erano in disaccordo mettiamola così, prego. No, il PD ha mandato avanti Renzi e adesso Nicola Zingaretti fa la parte del pontiere, del piacere, del responsabile tutte le cose che conosciamo meglio nella natura di Nicola Zingaretti e del suo cautissimo partito, però in realtà erano molto d'accordo e quello che ha fatto Renzi, perché è nella sua natura diciamo così di una capacità reattiva più forte ma è una cosa molto condivisa in quella parte della sinistra della maggioranza mentre invece i 5 Stelle si baloccavano tra il mess e il non mess le cose che diceva Friedman prima quella ieri era una questione già chiusa, già diciamo digerita anche se faceva sorridere perché quelli dicevano in aula votiamo sì però siamo per il no, insomma delle cose non proprio linearissime vabbè, insomma, col colore però invece questa cosa è molto seria allora se uno chiede, se un Presidente del Consiglio chiede compattezza giustamente alla propria maggioranza la prima cosa, il metodo è la condivisione ci sono dei costituzionalisti che in questi giorni non solo su giornali, diciamo, Garibaldini ma su Corriere della Sera il professore Luciani il professore Villone che spiegano che questa struttura, così come è stata raccontata perché qui stiamo ancora parlando di cose che non si sanno bene ha qualche profilo di difficoltà dal punto di vista costituzionale ma io mi sono chiesta, apposta ho riproposto diciamo, quella intervista al Presidente Conte che ormai è di qualche giorno fa aveva già fatto tutto eh no, io mi sono chiesta appunto ma con chi l'hanno deciso? cioè, quindi ci hanno in mente le persone ci hanno in mente i vuoi tu vuoi farmi dire che Renzi ha ragione eh no, no, nel senso, me lo sono chiesto poi ieri ho guardato Renzi grazie